Onde di colore brillante si spandono ritmicamente sulla tela e circondano il mulino a vento sulla cima del colle, punto focale della composizione. Rosso, giallo, blu, verde e nero si scontrano vigorosamente tra loro creando una vibrante tensione in questa composizione semplice, dallo strano lirismo. Hecker studiò architettura prima di dedicarsi alla pittura e fu anche un grande litografo. Il suo lavoro risente molto dell'influenza di Vincent van Gogh e dei Fauve. Nel 1905 formò con altri artisti il gruppo chiamato Die Brücke, ovvero Il Ponte, a suggerire una connessione tra la loro arte e quella del futuro. Il gruppo sviluppò un intenso stile espressionista perseguendo l'obiettivo di liberare la personalità dell'artista dalle convenzioni delle dottrine artistiche. Nel 1944 Hecker fu costretto ad abbandonare la nativa Germania per recarsi in Svizzera dopo che i nazisti avevano rimosso oltre 700 sue opere dai musei tedeschi.